E' stata rintracciata ad Andrea dai poliziotti del locale commissariato una donna di 37 anni di origini rumene comandato dal resto europeo. Erano quasi le 16 di ieri pomeriggio quando i poliziotti, dopo accurate ricerche in luoghi prevalentemente frequentati da cittadini rumeni, hanno notato la donna mentre percorreva Contrada Monachelle. Fermata è stata arrestata e condotto presso la sezione femminile del carcere di Trani in attesa di estradizione e accusata di violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato commesso in Romania e divi denunciato dalle autorità rumene. A Barlette è stato arrestato dai poliziotti del commissariato locale un diciottenne con precedenti che durante specifici servizi tese a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un minore. A seguito di perquisizione sono state sequestrate altre 25 dosi di droga. Lo spacciatore è stato tratto in arresto mentre l'acquirente è stato denunciato per favoreggiamento ed è stato segnalato all'autorità amministrativa. Deferito in stato di libertà sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di marijuana. Nell'ambito dei controlli è stato anche rintracciato e tratto in arresto Carlo Ricco, pregiudicato 26enne destinatario di ordine di carcerazione per cui dovrà scontare un residuo di pena di otto mesi per il reato di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I poliziotti hanno inoltre dato esecuzione all'ordine di cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare a carico del 45enne Fabio Calabrese a seguito del sopraggiungere di altra misura esecutiva per il reato di riciclaggio.